Ieri è stato un po' impegnativo perché alla fine siamo andati in un posto carino Ma poi E poi E poi E poi E poi E poi E poi Piano di un gober 2 minuti 2 minuti 2 minuti 2 minuti La banana prendita in te perché non la tocco la banana Guarda che cadina la banana Vai ma non ti fa niente Sono le 2.27 Tra 3 ore e mezzo abbiamo un volo Andiamo 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 Sono sempre in forma quando si parte, devo dire, spediti Porca troia Lungover, se anche voi a casa avete dei rimedi naturali contro il Lungover, commentate La prossima volta faremo il challenge con i migliori metodi per superare il Lungover Andrei, non ce ne andiamo, per favore, voglio restare qua Andrei, non ce ne andrei